Denis Asci è qui con noi per la proloco di Cesoli-Montefaito, che ricordiamo Cesoli è una frazione di Ortona dei Marsi. La Via dei Marsi continua per questo settimo trekking che collega direttamente questo centro bellissimo del Giovenco con Bisegna. Oggi allora è impegnatissimo in questa camminata, in questa bella passeggiata. Sì, siamo qui in questa settima trekking che deve unire Ortona dei Marsi con Bisegna. La proloco Montefaito, che qui rappresento, vuole sostenere al 100% questo meraviglioso progetto che è la Via dei Marsi, questa spina verde che noi dobbiamo sostenere, noi come associazione vogliamo essere protagonisti per dare il nostro contributo a questo progetto che è bellissimo, ovviamente molto ampio e dobbiamo essere sempre di più, perché c'è bisogno di gente, di movimento per dare questa possibilità allo sviluppo di questo meraviglioso progetto.